nelle zone a più alto impatto ambientale d'Italia, il progetto si chiama EcoFood Fertility e vedremo effettivamente anche come in qualche maniera risponde all'impatto ambientale perché noi ci stiamo ovviamente battendo per conoscere i più precoci segni di danno sulla salute umana e certamente il liquido seminale rappresenta un biomarker ideale per definire quello che può accadere sulla salute generale delle presenti e delle future generazioni. L'andamento non è assolutamente buono, è l'anticipo, ma sta di fatto che noi dobbiamo resistere in attesa del disinquinamento del pianeta, in attesa che si fanno queste bonifiche, in attesa che, diciamo così, noi possiamo in qualche maniera avere delle misure di resilienza. Allora, fondamentalmente, andiamo avanti? Niente, oggi proprio non la devo fare, che è successo? Allora, questa è la rete, quando si parla di fondi dicono, vabbè, ma con tutto quello che abbiamo fatto quanti fondi hanno speso? Quanti soldi hanno speso? Guardate, noi abbiamo costruito una rete, penso che sia l'unica esperienza al mondo, di ricercatori di diverse branche che ci hanno messo la loro passione, il loro tempo e i loro soldi. Fondi di impattimento, abbiamo avuto ovviamente dei finanziamenti statali, ma minimi, ve lo posso assicurare, ma gran parte è stato fatto con l'aiuto di tutte queste persone che provengono da Istituto Superiore Sanità, CNR, diverse università, abbiamo agronomi, bioarchitetti, andrologi, ginecologi, bioeticisti, avvocati, abbiamo fatto una squadra, tutta per un'alleanza per la salvaguardia e la fertilità che rappresenta la parte più critica del nostro futuro. Fondamentalmente si parte appunto da questa cellula, che è in assoluto la più sensibile di tutte le cellule del nostro organismo e quindi è la spia di quello che può succedere sul nostro corpo. Ho portato questa, fare tanti lavori, questa review del 2022 che mette insieme appunto tutti i fattori che incidono sui parametri seminali e come questo in qualche maniera può essere reversibile, almeno fino a un certo punto. Quindi questi sono tutti i fattori che incidono quindi sulla fertilità, cattivistica di vita, inquiramento, abuso dunque di droghe, alcol, questi li conosciamo quindi bene, sono i fattori di stile di vita e ovviamente quelle che... E questa è la situazione. Allora, questo è il quadro dal 1940 all'ultima metanalisi del 2017 al 2011 del calo degli spermatozoni nei paesi occidentali. L'ultima metanalisi dal 73 al 2011, un calo del 52%. Questo è un giro così sulla rete per vedere un po' quali sono gli studi a livello mondiale nei vari paesi che indicano appunto il declino nei vari paesi del mondo. Questo invece è un lavoro che ho fatto per il SARS-CoV, andando a verificare effettivamente come il liquido seminale potesse rappresentare una sorta di marker di suscettibilità ai danni al Covid di una popolazione, individuando che effettivamente c'erano delle aree maggiormente inquinate dove in effetti c'era un maggiore declino, il Covid ammazzava di più o comunque dava più danni e c'era un maggiore declino. Sorprendentemente vedi quindi i valori dell'Africa. Questo negli ultimi vent'anni. Vedete quindi questo lavoro, è stato fatto nel 2021. Nel 2022 esce, novembre 2022, questo studio che fa invece riferimento a tutto il globo, il precedente era a fare riferimento ai paesi occidentali, invece vedete questo è un lavoro che interessa tutti i paesi del mondo e in particolare che cosa quindi si è notato? che dal 1973 al 2018 abbiamo un calo del 51.6% della contraspermatica, dello sperma totale, cioè per concentrazione, del 62.3%, questo a livello globale. La maggiore responsabilità di questo calo sembra che sia dovuta ai paesi che negli ultimi vent'anni hanno subito un grosso depravvento ambientale, quindi Brasile, il Centrafrica e India-Cina. Quindi sapete quello che sviluppo hanno avuto e che tassi di inquinamento hanno. Tanto è vero che la perdita di spermatozo operano è stata del doppio dal 2000 al 2018 rispetto al 72-2000. Quindi c'è un'accelerazione nel depravvento ambientale, 51.6%. Questa è la perdita, come vi dicevo, dal 73 al 2000 per spermatozo operano dal 2000 al 2018. Questo negli ultimi 15 anni, una perdita del 30% di diversi parametri della qualità di SEP in Cina. Questo 2023, motilità nei nigeriani, cioè in dieci anni circa il 79%. Questo è stato pubblicato da poco. Questo invece è un studio che invece mette comunque in discussione un po' tutti gli studi che vi ho fatto vedere in precedenza perché ci sono tutta una serie di bias, ci sono una serie di fattori confondenti, però in ogni caso verificano che ci sono dunque delle aree dove effettivamente c'è un calo importante. E quindi bisogna fare degli studi su aree delimitate e seguirli quindi nel tempo e fare dunque delle comparazioni più stringenti. Cosa che abbiamo fatto appunto con un progetto finanziato dal Ministero della Salute a Brescia, Bale e Lezzacco nel Fosinate e Tre dei Fuochi. Sono soggetti tutti dai 19 anni in età, non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, lo stesso indice di massa corporea, quindi sono ragazzi omogenei. Per fare questo tipo dunque di lavoro abbiamo dovuto considerare più di 6-7 mila ragazzi, li abbiamo praticamente selezionati, alla fine abbiamo appunto, li abbiamo stratificati e se voi vedete il dato della motilità dove vedete quelle freccette 27.75 è al di sotto del valore della motilità secondo l'Organizzazione Mondiale Sanità del 30% e considerate che sono ragazzi di 19 anni di queste aree. Quindi vediamo che la situazione, ecco considerando l'omogeneità del campione, è abbastanza seria considerando che sono ragazzi di 19 anni. Stiamo parlando di percentuali di alterazione intorno anche al 60% in generale. 3 aprile 2023, allora finalmente l'Organizzazione Mondiale Sanità prende in considerazione che l'infertilità globale è un problema importante, uno su sei, non c'è una grande differenza fra paesi ad alto e basso reddito, c'è un monito ai governi, ma questo è un fenomeno sottostimato, perché gran parte di questi studi, di questo report, costituita circa 133 studi, la quasi totalità fa riferimento all'infertilità femminile, una piccola parte all'infertilità di coppia, poco o nulla sulla fertilità maschile, che è quella oggi prevalente, quella che più ti dà il dato e ti indica dove stiamo andando a finire. Questo l'ho pubblicato nel 2021, insieme quindi ai fattori legati al stress ostidativo del Covid, più air pollution possono indurre un ulteriore declino della fertilità. questo è appena quindi pubblicato, è uscito nel 16 ottobre, un libro che abbiamo fatto dal professor Cavanna, come effettivamente air pollution e Covid agiscono in maniera diciamo così sinergica per aumentare i tassi di cancro futuri e l'infertilità maschile, questo è appena uscito potete anche comprarlo. E vedete anche questa è una proiezione demografica al 2050, in pratica oggi siamo 8 miliardi, siamo arrivati a 8 miliardi e 50, avremo un altro po' di crescita, i demografi dicono che nel 2050 saremmo 9.7 miliardi, questi si sono fatti mali conti, perché non si sono fatti conti con questo declino importante della capacità riproduttiva. Purtroppo qua in Italia quando si parla di denatalità si parla solo in termini socioeconomici e culturali, ma non si tengono assolutamente conto della riduzione importante della capacità riproduttiva dell'uomo, oltre che di tutte le specie animali. Questo lo porto sempre perché è molto indicativo. Al di là dunque delle alterazioni epigenetiche del fetal programmi, quindi di tutto quello che incide sullo sviluppo improfetale e quindi le malattie, diciamo così, epigenetiche trasmesse durante la sprogrammazione fetale, questo è un esperimento fatto sui gameti, quindi stiamo a fase post natale. E si è visto che con l'etimigliestro d'oro, un ristruttore endocrino, a dose 100, nei nipoti si producirono delle alterazioni anche a dosi più basse di 25 mg di questo periodo, tre volte tanto rispetto ai nonni. Cioè in pratica è come se ci fosse una ipersensibilizzazione al danno. Cioè anche se tu riduci la dose, se quel gamete in qualche maniera è, come dire, alternato dal punto di vista epigenetico, questa ipersuscettibilità della porti per generazione. E oltretutto, anche se abbassi la dose, ma la risposta è addirittura tripla. Andatevi a leggere questo articolo, molto bello. Che cosa spiega questo articolo? Questo articolo spiega praticamente come in effetti, come in effetti, in qualche maniera, c'è un aumento importante e costante dell'incidenza di tutte le patologie cronico-rigenerative. E quindi questo spiega anche perché in effetti c'è questo declino della capacità riproduttiva, in particolare questo si vede nel seme di generazione in generazione. Perché è quello che stiamo vedendo. Io sono un clinico, quindi noi vediamo i ragazzi. Cioè io ne vedo migliaia di ragazzi perché abbiamo la fortuna di andare nelle scuole. Non vi dico praticamente che oggi, ovviamente, i ragazzi hanno gambe più lunghe, testicoli quindi più piccoli, distanza, una genità più corta. Al di là, dunque, la qualità di riproduttiva, dal punto di vista strutturale sta cambiando la struttura di questi ragazzi. Per cui questo è un esperimento che io voglio sempre portare, andatevelo a vedere, veramente molto bello, che può spiegare appunto il declino al quale noi siamo condannati. Queste le riporto pure come, diciamo, immagini così iconiche. Johnson nel 2019 diceva che se appunto continua l'inquinamento chimico e elettromagnetico potremmo arrivare alla estinzione nelle prossime cinque generazioni. Andatevi a vedere, vedetevi anche questo film del I figli degli uomini nel 2006, ispirato ad un romanzo del 92. Questo invece devo ringraziare a Genare Esposito. Perché io sto scrivendo un libro proprio sulla possibile estinzione della specie umana per infertilità maschile. Stavo pensando al titolo. Ieri il Gennaro diceva, ma quale possiamo dare un titolo? Il Gennaro, che è uno che ci ha ispirato anche sul primo titolo del progetto EcoFood Fertility, ha detto The Spam After. Quindi questo te lo dedico a te, Gennaro. E quindi, Towards the Fertility Metaverse. Quindi considerate appunto come vedremo appunto questa situazione. Tu fermami appena su no, perché io... Sì, sì, lo so, lo so, lo so, tanto io vado sempre... Quindi questa ve la faccio vedere. Ovviamente nell'autismo abbiamo già fatto cenno, quindi l'aumento delle malattie neurodegenerative, del neurosviluppo. E considerate che i sistemi più sensibili sono l'apparato riproduttivo e l'apparato... e il sistema nervoso. Sono quelli più sensibili appunto allo stress ambientale. L'aumento dunque del cancro. Questo ve la faccio vedere, sono gli studi che abbiamo fatto sulle micoplastiche, fra i tanti studi che abbiamo fatto. Abbiamo scoperto i primi al mondo a verificare la presenza di micoplastiche nelle urine. Questo l'abbiamo pubblicato nel Gennaro 2023. Ma non ci siamo fermati qua. Abbiamo scoperto anche la presenza di micoplastiche nello sperma. Questo l'abbiamo pubblicato tre mesi fa, quindi luglio 2023. Come ci passano queste micoplastiche? Abbiamo immaginato un meccanismo attraverso non la barriera ematotesticolare, ma attraverso l'epididimo e le biciclette seminali, che sono le strutture che più facilmente si infiammano. c'è una maggiore permeabilità e quindi è molto più probabile che queste micoplastiche passino proprio attraverso queste due strutture. E la cosa strana, lo sapete qual è? Che nel soggetto 1, un azospermico, c'era una concentrazione maggiore di micoplastiche e ce n'erano ancora altre in misura maggiore rispetto a chi non le aveva. Questi sono soggetti che hanno una qualità del streme minore. Parliamo di 10 soggetti, quindi il numero è basso. Ma già ti fa capire come in effetti queste micoplastiche, che poi con sé portano metalli pesanti, PCB, diossine, bisfenoli, ftalati, quindi in qualche modo fanno un aggregatore di altre sostanze e possono incidere appunto sulla fertilità. Quindi quasi la metà di specie animali è da biorellino. Questa è una cosa che mi pare hai detto pure in qualche modo tu. Finisco. La biodiversità, quindi, è anche a rischio di estinzione. Voglio dire solo una cosa. Tu hai fatto riferimento alla coppa? Nel 2050. Due mesi, tre mesi fa. Hai detto un altro articolo? Che fa invece riferimento al fatto che... La biodiversità, quindi, è anche a rischio di estinzione. Voglio dire solo una cosa. Tu hai fatto riferimento alla coppa? Nel 2050. Due mesi, tre mesi fa. Hai detto un altro articolo? Che fa invece riferimento al fatto che... La biodiversità, quindi, è anche a rischio di estinzione. Voglio dire solo una cosa. Tu hai fatto riferimento alla coppa? nel 2050 due mesi, due mesi fa c'è un altro etico che fa invece riferimento al tradito di diversità quindi è anche a rischio di estinzione voglio dire solo una cosa tu hai fatto riferimento alla Coppa nel 2050? il declino del liquido seminale il declino della qualità del liquido seminale è lo specchio più fedele di quanto le attività umane incidono sulla salute generale dell'uomo e poi del pianeta grazie allora grazie mille la prossima ospite è la dottoressa Simonetta Marucci rappresentante dell'associazione Medici Endocrinology fa parte del gruppo ISDE sulla plastica ed è quello di cui ci parlerà oggi un altro argomento importantissimo perché la plastica è letteralmente buona